Abbiamo pensato di riproporre questo ciclo di incontri, questo cammino insieme per tutto l'ambito, sia in presenza e sia con la televisione, grazie proprio alla disponibilità di Telepace. Tre momenti di meditazione e un tempo di preghiera e di adorazione. Così le comunità parocchiali dell'ambito della Val Petronio, Moneglia, Casarza Ligure e Castiglione Chiavarese si preparano a vivere il cammino di preparazione alla Pasqua. Sulla scia di quanto già messo in campo durante l'Avvento sono stati organizzati per la Quaresima quattro momenti da vivere sia in presenza che a distanza, in diretta, attraverso le frequenze di Telepace 4 al canale 218 ogni lunedì sera. Alle 20.45 i sacerdoti dell'ambito a turno proporranno una riflessione sul Vangelo di Marco. Noi gli incontri facciamo lunedì e quindi verrà la meditazione che verrà tenuta dai parroci delle chiese in cui avverrà l'incontro e tratterà il Vangelo della Domenica successiva. Si comincia lunedì 22 febbraio con la meditazione di Don Stefano Giupponi nella chiesa di San Giorgio di Moneglia. Lunedì 8 marzo sarà la volta di Don Seriache Biggirimana che terrà la sua riflessione sul Vangelo della Domenica successiva dalla chiesa di Castiglione Chiavarese. L'ultimo momento di riflessione lunedì 22 marzo dalla chiesa di Francolano sarà insieme a Don Elio Frigeri. Lunedì 29 marzo ci sarà poi il tempo di preghiera e di adorazione davanti alla croce che sarà ospitato nella chiesa di Santa Croce di Moneglia sempre alle 20.45. Quest'ultimo momento sarà preceduto la Domenica delle Palme da quello che è stato chiamato il gesto di carità. Per aiutarci a riflettere sulla carità come propria dimensione della nostra vita cristiana e quindi abbiamo in particolare pensato di due gesti che sono la raccolta di generi alimentari che poi verranno donati al Centro Unico di Distribuzione e il fatto di destinare le offerte raccolte durante la celebrazione al fondo di prossimità attivato dalla carità piocesana proprio a sostegno delle famiglie bisognose a causa della crisi economica. Grazie. Grazie.